Ben trovati, ben trovati a questo che non è un video tutorial ma è una comunicazione di servizio per informarvi che sta per partire un nuovo corso a distanza dedicato ad Adobe Premiere Pro. Tramite Skype o tramite Zoom ci vedremo una volta a settimana per 20 ore e in queste 20 ore impareremo i concetti fondamentali dell'editing video con Premiere Pro. Quindi che cos'è un video, come si crea un nuovo progetto, cos'è una sequenza, come si monta in una sequenza, come si lavora con l'audio, come si applicano gli effetti ai vostri video, come si crea la grafica, grafica efficace per i social network, come si verticalizza un video da condividere per esempio su Instagram e ovviamente come si esporta oltre a tante altre belle cosine. Il corso durerà 20 ore, sarà interattivo a distanza e potete registrarvi andando sul sito www.fabioambrosi.it o mandandomi una mail ad infochiocciola fabioambrosi.it. Vi aspetto.